Le luci dei riflettori, i dischi d'oro e di platino, le copertine dei magazine, tutti che vogliono un pezzetto di te. Dietro tutto questo, però, si nasconde un lato oscuro fatto di cedimenti psicologici e depressione, di pressioni e aspettative difficili da sostenere. Un disco, poi un altro, poi un altro ancora, guai a fermarti, perché nel marasma delle uscite discografiche dei tempi moderni, secondo le stime escono ogni giorno 60.000 canzoni, ovvero 22 milioni di brani nuovi all'anno, c'è il rischio di rimanere indietro e che il pubblico si dimentichi di te. È il prezzo da pagare in cambio della popolarità, che però è diventato evidentemente troppo salato. Tutto questo ricorda il paese dei balocchi nella favola di Pinocchio, compreso il triste epilogo in cui i giovani vengono trasformati in asini e buttati a mare, la metafora più calzante per descrivere quel lato oscuro dello show business sul quale sempre più artisti. Spesso di nuova generazione, stanno facendo luce, da San Giovanni a Mr. Rain, passando per Gamon, Mew e Damiano e i suoi maneschin, l'ha trovata Federico Zampaglione. Il 55enne cantautore romano, leader dei T-Romancino, tra le band più amate dei primi anni 2000, ha affidato ai social un pesante jacuzzi rivolto ai meccanismi della discografia, per i quali i ragazzi vengono presi dal nulla e senza alcuna gavetta sparati subito ai massimi livelli possibili del music business, pretendendo che ogni due mesi sfornino la ite che riempiano stadi e palasport senza prima aver suonato mai neanche in un club. Se qualcosa comincia a non funzionare, li fanno scomparire in un istante, tuona Zampaglione. Uno sfogo da fratello maggiore. Arrivato dopo l'annuncio dello stop di San Giovanni e il dito puntato da Mr. Rain, dopo questo disco mi fermo. Voglio studiare. E per farlo devo restare un po' lontano dalle scene. Siamo sopraffatti da pressioni che ci rendono schiavi di un sistema che corre troppo veloce, ha detto il 32enne rapper bresciano di Supereroi. L'annuncio del ritiro a tempo indeterminato dalle scene di San Giovanni ha fatto evidentemente scattare un campanello d'allarme. Non ho le energie fisiche e mentali. Ha scritto sui social subito dopo il penultimo posto al Festival di Sanremo con Finiscimi il 21enne cantautore Vicentino lanciato da Amigli. Una manciata di giorni prima Miu, vero nome Valentina Turchetto, 24 anni, aveva scelto di ritirarsi dal talent di Canale 5. La depressione si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare. Sull'orlo di una crisi di nervi maneskin, che nel 2017 si classificarono secondi a decimo factor prima del boom con Zitti e Buoni, ci finirono nel 2022. La sovresposizione e il lavorare troppo oltre alle proprie possibilità ha distrutto le carriere dei migliori artisti delle ultime generazioni. «Eviterei una seconda ondata di musicisti che impazziscono o muoiono gonfi di medicinari», disse Damiano. All'estero si è perso il conto delle grida d'allarme lanciate in questi ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia. Shawn Mendes, canadese, 25 anni, esploso grazie a Vines, il social network padre di TikTok, dopo dieci anni di dischi, tour e film nel 2022 ha staccato la spina. «Devo mettere la mia salute in testa a tutto». «Quelle di strome sono state tra le dichiarazioni più scioccanti, 210 concerti in due anni mi hanno portato a un esaurimento», ha detto la star belga, che nel 2022 ha parlato esplicitamente di pensieri suicidi nella canzone Lenfer. È proprio per evitare che altri ragazzi si ritrovino a vivere quell'inferno che Zampaglione chiede ai discografici di riflettere. Abbiate rispetto della musica e di chi vorrebbe viverla e farne un mestiere. Non fate a questi ragazzi quello che non vorreste fosse fatto ai vostri figli.